Se stai cercando informazioni che riguardano il come rimorchiare una ragazza allora è il tuo giorno fortunato perché stai guardando il video giusto non lo dico per tirare acqua al mio mulino ma sono uno dei maggiori esperti in Italia per quello che riguarda la seduzione e più nello specifico la conquista della donna lo so, potresti essere scettico su quanto appena detto ed è anche giusto che tu lo pensi visto che è pieno di buffoni e paragur in giro che ti permettono di farti conquistare la donna dei tuoi sogni mandandoti in giro a fermare ragazze per strada alla cazzo di cane stai tranquillo, i miei metodi sono molto più produttivi e meno invasivi e se hai la pazienza di guardare tutto questo video scoprirai realmente chi sono e come posso aiutarti ovviamente scoprirai anche i tre consigli che ti permetteranno di conquistare una ragazza con successo se ancora non mi conosci mi presento velocemente io sono RD e sono Love Coach presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico costantemente ogni singola settimana dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna non è importante dove ti trovi in questo momento non è importante se fino ad ora non hai avuto molto successo con le donne non è importante se le tue ultime esperienze sono state un disastro la cosa veramente importante è la direzione che intraprenderai da questo preciso momento in poi ricorda non è importante da dove vieni ma dove stai andando tutti possediamo già il potenziale per cambiare dobbiamo solo scoprire come fare il destino non è regolato dalle stelle ma da come pensiamo parliamo e agiamo e se ti dicessi che ho già pronto bello e apparecchiato un sistema funzionante ed applicabile da subito che ti mostra come rimorchiare una donna in modo facile già è proprio così ho creato un metodo avanzato che funziona veramente dove ti mostro passo dopo passo il modo corretto su come rimorchiare concretamente una donna senza commettere errori ovviamente il tutto è frutto di anni di esperienza conoscenze e studi sulla psicologia femminile che ti farebbero risparmiare altri due di picche e di smetterla di sentirti dire ti vedo solo come un amico o sei simpatico ma non sei il mio tipo o magari mi dispiace sono fidanzata ma non ho un ragazzo so perfettamente cosa significa essere rifiutati conosco benissimo questa brutta sensazione che ti affossa la tua stima sotto i piedi di quando una ragazza ti dà buca ad un appuntamento di quando rimedi il numero di telefono ma non ti risponde nessuna di quando invi un messaggio e vedi la scritta visualizzato senza risposta e intanto altri uomini meno belli e capaci di te ti passano davanti in compagnia di ragazze stupende mentre magari tu devi accontentarti degli scarti della mediocrità o nel peggiore dei casi devi accontentarti solo ed esclusivamente della tua mano conosco perfettamente queste disagevoli sensazioni perché anche io tempo fa era una vera frana con le ragazze ma oggi sono diventato un esperto di seduzione e di insegno e aiuto ad altri uomini a conquistare le donne in modo impeccabile e se ci sono riuscito io se ci sono riusciti i miei vecchi studenti allora puoi riuscirci anche tu a conquistare la donna che meriti ognuno di noi può ottenere ciò che vuole dalla vita te lo assicuro ma per raggiungere un obiettivo occorrono tre condizioni e quindi adesso vediamo i tre consigli pratici che ti ho promesso all'inizio di questo video 1. devi volerlo intensamente 2. devi conoscere le giuste strategie 3. devi applicarle se veramente desideri migliorare posso fornirti le giuste strategie strategie altamente potenti su come concretamente rimorchiare una donna senza commettere errori scoprirai le migliori tecniche di approccio e seduzione apprenderai gli errori che devi smettere di commettere e che commettono l'80% degli uomini quando vogliono conquistare una donna errori fatali che non fanno altro che peggiorare le cose ed allontanarti e scoraggiarti da raggiungere l'obiettivo finale rimorchiare una donna fare sesso costantemente avere relazioni gratificanti aumentare la tua sicurezza ed autostima in parole più sintetiche diventare un vero mostro della seduzione e per farlo hai solo due modi il primo è spendere molto tempo per acquisire esperienza da solo continuando a sbagliare dai tuoi errori e ricevendo altri pani e due dipicche passando altri momenti frustranti e di disagio il secondo è applicare le strategie di un metodo collaudato che ha già aiutato altri uomini a rimorchiare che ti evita di commettere errori e e velocizza il tuo processo di apprendimento e miglioramento seguendo un percorso facile e veloce che ti permette di imparare a conquistare una donna nel modo più semplice possibile evitando brutte figure e due dipicche ora sta a te scegliere se chiudere questo video e continuare ad agire come meglio credi con le donne o dare un'occhiata al mio metodo e scoprire di cosa sto parlando ti sto offrendo solo la verità ricordalo niente di più ho preparato un webinar totalmente gratuito dove ti racconto la mia storia personale da come sono riuscito a passare da completo sfigato con le donne a iniziare a collezionare esperienze dopo esperienze e ovviamente ti mostro passo dopo passo tutto ciò che deve essere fatto per approcciare conoscere e conquistare una donna con successo per accedere al webinar gratis ti basterà cliccare il link che trovi nella descrizione di questo video se lo stai guardando su youtube o facebook o sopra nell'abbio se ti trovi su instagram o tik tok non dimenticarti che una volta apprese le giuste strategie dovrai applicarle per ottenere risultati importanti nella vita è necessario un impegno costante straordinario e massiccio non basta spingere un bottone dovrai impegnarti veramente per migliorare registrati al webinar ti aspetto dall'altra parte se ti è piaciuto questo video ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi nuovi video sul mondo del rimorchio e la conquista delle donne e non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti ma sono qui per farti fottere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti